Ciao a tutti, in questi video vi spiegherò alcuni degli arrangiamenti più interessanti che ho utilizzato per arrangiare l'album dei No Humano, Trapped, vedremo alcuni estratti di alcune canzoni. Il primo che vediamo è tratto dalla canzone tributa a Jason Baker, la strofa per la precisione, che è in 7 ottavi. La ripica di base è la seguente. Nell'arrangiarla mi sono ispirato notevolmente a batteristi come G. Nolan o Richard Christie dei Death, arrivando a questo tipo di arrangiamento.